Hanno combattuto per noi, pedaliamo per loro. E' stato questo il messaggio lanciato domenica 10 maggio alla manifestazione in bici per la libertà, in occasione del settantesimo anniversario della liberazione. Promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione, l'iniziativa è nata per sensibilizzare i cittadini sul ruolo che hanno avuto nel corso della resistenza le staffette partigiane, che proprio con la bicicletta compivano i propri spostamenti.